Ok ragazzi, siete americani e volete che l'America torni a essere grande. Per questo motivo avete votato Donald Trump e Trump nominerà come ministro della sanità americano Robert J. Kennedy Jr., il quale è convinto che il 5G serva a controllare gli americani, che il Covid-19 sia stato programmato per eliminare caucasici e neri ma risparmiare ebrei, aschenaziti e cinesi e che i vaccini, oltre a causare l'autismo, siano anche delle armi di distruzioni di massa per controllare la popolazione. Ora, secondo voi, con un segretario per la salute così, che cosa potrà mai andare storto? Prima di rispondere a questa domanda, vediamo e scopriamo esattamente chi è Robert F. Kennedy Jr. Con i suoi 70 anni portati benino, egli è il nipote di John Fitzgerald Kennedy, figlio di Robert Kennedy. Paladini d'America è simbolo di libertà e democrazia per tutto il mondo. Tuttavia, quando si ha un'eredità così importante, si sente anche la pressione sociale e Kennedy, nel 1976, subito dopo una laurea in giurisprudenza, la pressione sociale la sentiva talmente tanto da doversi rifugiare nell'uso e soprattutto nell'abuso di farmaci e sostanze stupefacenti. In pratica, il nostro eroe passa da uno scandalo all'altro fino a quando, negli anni Ottanta, arriva il riscatto. Kennedy si dà una svegliata e una regolata e inizia a combattere per difendere l'ambiente. Da una parte scrive libri e presenta trasmissioni radiofoniche a tema, dall'altra ha effettivamente una carriera a tutti gli effetti. Tra la pubblicazione di un bestseller come Crimini contro la natura del 2004 e un libro per bambini dedicato a San Francesco d'Assisi nel 2005, è diventato anche un sostituto procuratore e ha anche acquisito incarichi di un certo peso a livello statale e federale. In pratica è un vero e proprio esempio ed eroe per tutti i ragazzi democratici degli Stati Uniti d'America. Tuttavia nel 2014 slash 2015 qualcosa nella sua testa scatta o forse si rompe. Beh, insomma, snappa alla grande, per usare un termine inglese. Perché il nostro antieroe passa dal difendere l'ambiente al combattere contro i vaccini. E nel corso del tempo sembra dimenticarsi tutto ciò che ha fatto, tutto ciò per cui ha combattuto. Vi dico soltanto che collabora tanto con il Donaldone americano quanto con Schwarzenegger, che è una persona davvero in gamba, ma è anche un negazionista climatico. E Kennedy, fra un'affermazione e complottare l'altra, trova anche il tempo per uccidere o quantomeno per caricare a bordo della sua auto il corpo di un orso e poi scaricarlo in Central Park. Forse è bene non indagare più di tanto su certe sue abitudini. In ogni caso, come ben sapete, nelle ultime elezioni Kennedy ha appoggiato il Donaldone americano e quest'ultimo l'ha fatto entrare nella sua squadra, nel suo aereo e verosimilmente, se dovesse riuscirci, anche nel suo governo. Per lui, infatti, il Donaldone ha ritagliato un posticino su misura come segretario per la sanità. Sì, Robert Kennedy Jr., antivaccinista e signore delle cospirazioni, anche ma non solo a tema medico, si ritroverebbe a svolgere il ruolo di ministro per la sanità americano. Ora, dato che il Senato americano si ritroverà a dover ratificare o meno la sua nomina, ho pensato bene di presentarvi le dieci teorie del complotto che Robert F. Kennedy Jr. ha portato avanti e pubblicizzato in questi anni. La prima teoria del complotto sposata da Robert Kennedy fra il 2014 e il 2015 è quella in base alla quale i vaccini causano l'autismo. Robert porta avanti la teoria in base alla quale, dato che l'autismo si manifesta più o meno contemporaneamente con la somministrazione del vaccino contro il morbillo, la rosolia e non mi ricordo che altro, allora causare l'autismo è il vaccino. E ragazzi, questa è un'osservazione palesemente fallata. Non è che perché due fenomeni sono più o meno contemporanei uno e causa dell'altro. Comunque il nesso di causalità me lo devi dimostrare. Non è che se io mangio una pizza e poi mi viene un infarto è stata la pizza causarmelo. Kennedy comunque è rimasto di quest'idea per tutti questi anni e ha iniziato a martellare su questo tema tra il 2014 e il 2015, benché l'Accademia Nazionale delle Scienze, ovviamente americana, avesse già pubblicato uno studio definitivo nel 2004, dimostrando al di là di ogni ragionevole dubbio quanto fosse infondata la posizione di Kennedy e dei suoi accoliti. Lo studio di oltre 200 pagine è liberamente disponibile in rete. Spero di lasciarvi il link qui sotto. Ora, come potete facilmente immaginare, una politica non solo indifferente, ma addirittura ostile alle vaccinazioni, può creare una marea di problemi. Già durante lo scorso anno a New York c'è stata un'epidemia di polio, una cosa che non si vedeva letteralmente da decenni e similmente negli ultimi anni sono aumentati anche i casi dipertosse. Si parla in questo caso di una 16-17 focolai in tutti gli Stati Uniti d'America, cose che, ripeto, non si vedevano da decenni. A causa di questa moda contro i vaccini stanno purtroppo tornando d'attualità. E ricordo anche che negli Stati Uniti la sanità è privatizzata, quindi se ti ammali o si ammala tuo figlio devi sperare di avere l'assicurazione. Nel caso in cui si ammali qualche poveraccio i cui genitori sono disoccupati possono esserci seri problemi per la salute dei bambini. Restando sullo stesso tema, fra il 2019 ma soprattutto il 2020 il nostro antieroe ha svecchiato il repertorio sui vaccini affermando che il vaccino contro il Covid-19 è sostanzialmente un'arma di distruzione di massa definendo questo vaccino il vaccino più letale di sempre. Naturalmente anche questa affermazione non corrisponde a realtà ed è stata smentita a livello scientifico pressoché dalla chiunque. Kennedy però non si era assegnato e è tornato all'assalto affermando che l'FDA è in guerra per la salute pubblica contro i consumatori e i cittadini americani. i bippardi dell'FDA vogliono regolamentare o vietare le terapie iperbariche per esempio vogliono vietare addirittura il latte crudo non so se ve ne rendete conto vogliono togliere agli americani il latte crudo. Ora è vero che il latte crudo ha un sapore e delle caratteristiche diverse e migliori rispetto al latte pastorizzato ma è altrettanto vero che la pastorizzazione è utile perché elimina un pacco formato famiglia di batteri potenzialmente letali per gli esseri umani si pensi per esempio all'escherita che ha coli oppure ancora alla viaria altre si nota dagli amici e per gli amici come H5 ed N1 insomma c'è un motivo se cuociamo il latte e lo sterilizziamo prima di berlo Kennedy comunque non vuole solo rimuovere dei biechi di vieti funzionali per la felicità di Big Pharma no 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 lui vuole anche liberalizzare l'uso di trattamenti con cellule staminali ora qualcuno di voi potrebbe anche dire qualcosa del tipo e beh avvocato cosa c'è di male diciamo che esistono trattamenti e trattamenti con le cellule staminali esistono certamente degli studi seri che stanno dando dei risultati incoraggianti ma sventuratamente esistono anche tante truffe oppure esistono anche tanti trattamenti che sono vera e propria fuffa e vi lascio indovinare quali di queste due pratiche vuole promuovere il Kennedy di turno Kennedy poi attacca frontalmente l'FDA affermando senza mezzi termini che l'agenzia invece di controllare le industrie di società farmaceutiche viene controllata a sua volta per l'appunto da industrie e case farmaceutiche non c'è bisogno di aggiungere che Kennedy diverse volte ha promesso che avrebbe ribaltato questa agenzia come un calzino se e quando ne avesse avuto la possibilità non c'è bisogno di precisare che le affermazioni di Kennedy sono completamente avulse dalla realtà non si è mai dimostrato che l'agenzia fosse sotto il controllo informale naturalmente di entità terze Kennedy poi è convinto di aver scoperto la causa di tutte le stragi scolastiche americane e quando parlo di stragi tendo a dire letteralmente l'eliminazione violenta di decine e decine di persone perché in Italia viene considerato strage il fatto di essere imbocciati in America prendono la cosa molto più letteralmente ebbene il nostro Kennedy afferma che in pratica tutti quegli incidenti con armi da più o meno d'assalto si verificano non perché non educhi i ragazzi e i bambini all'utilizzo responsabile delle armi e magari le tieni anche al sicuro queste armi no 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 questo tipo di problemi con tante persone che vengono eliminate da studenti frustrati si verifica solo ed esclusivamente perché a questi poveri ragazzini vengono somministrati antidepressivi e vengono lasciati davanti a un computer a videogiocare sì avete capito bene secondo Kennedy incidenti come quello della Columbine sono il risultato di troppi pomeriggi passati a giocare a Mario Kart o magari a Doom chi può dirlo c'è poi naturalmente un grande classico che potrebbe procurarmi grandi problemi su YouTube che sostanzialmente è la teoria sempre difesa da Kennedy non da me algoritmo sto riportando quello che pensa Kennedy in base alla quale l'AIDS non è provocato dall'HIV l'aspetto divertente di questa teoria del complotto consiste nel fatto che la correlazione fra questi due stati slash malattie è stata dimostrata da un certo Luc Montagnier il quale prima di diventare a sua volta un complottista della miglior slash peggior specie ha vinto anche il premio Nobel nel 2008 proprio per questa ricerca poi bisogna dire che si è perso un pochino per strada ha iniziato da anziano a raccontare cose del tipo l'acqua ha una memoria e può assorbire le caratteristiche di tutti gli elementi con cui viene in contatto ma tendenzialmente è abbastanza buffo il fatto che Kennedy citi e cerchi di smentire un premio Nobel che poi è diventato esattamente come lui anche se a onor del vero nel 2021 Kennedy in uno dei suoi ultimi libri uno dal titolo il vero Anthony Fauci Bill Gates e compagnia che muovono guerra contro la democrazia e la salute pubblica o qualcosa del genere non credo che vi lascerò il link qui sotto ha affermato che non prende posizione in merito si limita semplicemente a riportare queste teorie quelle sbagliate per intenderci Kennedy ha poi affermato che l'identità di genere di un bambino può essere alterata sfruttando l'acqua e ragazzi devo ammettere che anche io ho difficoltà a comprendere le basi di questo complotto se qualche fat checker tipo un David Puente qualsiasi passa da queste parti sappia che il suo commento qui sotto e il benvenuto verrà anche fissato in copertina comunque sia appare che secondo Kennedy e secondo un altro complottaro che dovrebbe aver ospitato nel suo podcast un certo Alex Jones o Julie Lee qualcuno discioglierebbe nell'acqua degli ormoni che naturalmente servono a condizionare il comportamento anche sessuale degli individui nel caso dei bambini questi ormoni li renderebbero piuttosto sensibili e particolari ecco poi sempre fra il 2020 e il 2022 Kennedy ha affermato davanti ai microfoni di un importante tv nazionale che se fosse stato autorizzato l'uso dell'invermentina sugli esseri umani sarebbero morte meno persone per covid il che tecnicamente potrebbe anche essere vero intendo dire assumi quantità da cavallo di un farmaco pensato per uso veterinario è chiaro che se fai una brutta fine per aver preso questo farmaco non sarà certamente il covid a stroncarti ci sta ha una sua logica la cosa battute a parte in realtà l'invermentina può essere utilizzata ma solo per alcune malattie in dosi piccolissime e similmente l'idrossiclororichina può essere efficace ma non esattamente contro il covid contro la malaria si contro quell'altra malattia no in via d'emergenza l'fda ne aveva peraltro autorizzato l'uso dopo tre mesi ha revocato questo tipo di utilizzo perché era sostanzialmente inefficace arriviamo così alle ultime due teorie del complotto sponsorizzate da kennedy le migliori se siete arrivati fin qui ne valeva la pena credetemi la seconda teoria del complotto più divertente sponsorizzata da kennedy è il covid 19 come arma di distruzione di massa il covid 19 secondo kennedy sarebbe stato sviluppato e diffuso per eliminare gruppi etnici ben precisi e cioè i caucasici e i neri sempre secondo kennedy il covid 19 non colpisce i cinesi e gli ebrei aschenaziti e lasciatemelo dire questa è palesemente una marchetta un fanservice a favore dei suprematisti americani che tra l'altro ragazzi ma non so se vi rendete conto dell'immensa fregatura intendo dire questa malattia non colpisce i cinesi ok ma se siete lo stesso appartenenti a un ceppo orientale che so siete giapponesi o coreani com'è che la malattia vi becca e stessa cosa pensate che fregatura intendo dire se siete aschenaziti non correte rischi ma se siete comunque ebrei appartenenti a un'altra etnia la malattia vi fa pezzi chi è che l'ha progettata in questo modo starna ora al di là del fatto che queste sono affermazioni palesemente bippistiche e criticate molto ampliamente praticamente da qualunque politico americano forse tutti tranne Trump resta il fatto che al momento attuale e verosimilmente forse mai non è possibile creare un'arma che scelga una popolazione specifica come bersaglio per un motivo semplicissimo come sappiamo ormai da decenni non esistono le razze umane qualunque etnia ha dei forti contatti con le altre non è possibile distinguere nettamente un'etnia dalle altre non c'è una peculiarità che è propria solo ed esclusivamente di alcuni individui per cui verosimilmente chiunque si mettesse in testa di creare un'arma per neutralizzare una specifica etnia fallirebbe o peggio ancora avrebbe troppo successo eliminerebbe tutti gli umani mica solo quella popolazione lì e infine c'è la regina di tutte le fake news il 5G serve da una parte per raccogliere dati su di noi e passi ma soprattutto per guidare i nostri comportamenti ebbene sì secondo Kennedy noi siamo condizionati da tizi che se ne stanno nell'ombra a darci istruzioni mediante le reti 5G noi praticamente siamo i nostri cellulari e detto fra me e qualche decina di migliaia di spettatori visualizzatori iscritti non so se Kennedy se ne rende conto ma ha fatto squadra con un certo Elon Musk che gestisce dei social e che effettivamente spiega alla gente quello che devono pensare e per chi devono votare compreso lo stesso Kennedy quindi riassumendo questa è la persona che potrebbe diventare segretario per la sanità degli Stati Uniti d'America tra l'altro ho dovuto lasciare fuori alcuni complotti come quello del fluoro nell'acqua che era fenomenale a sua volta però intendo dire magari ci facciamo qualche altra puntata ora è del tutto evidente che Kennedy non solo non ha alcuna competenza in tema sanitario ma addirittura non è in grado di collaborare con le autorità preposte con i funzionari e i dipendenti del ministero chiamiamolo così e dell'amministrazione pubblica con cui dovrebbe interfacciarsi Kennedy parte dal presupposto che questa gente non è che si trova lì per curare gli americani no 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 parte dal presupposto che questa gente è corrotta al servizio delle multinazionali e vuole eliminare buona parte della popolazione statunitense non è esattamente il presupposto migliore per diventare ministro della sanità o come lo chiamano in America segretario per la sanità degli Stati Uniti d'America il lato positivo consiste nel fatto che non è assolutamente così scontato che il senato ratifichi la sua nomina c'è infatti la possibilità concreta che venga bersagliato dai franchi tiratori e che i senatori anche repubblicani preferiscano nominare un altro soggetto più qualificato anche perché detto fra di noi uno meno qualificato di questi a me non viene in mente forse non riuscirei a trovarne uno nemmeno fra i deputati italiani vi dico solo questo e voi che cosa ne pensate che cosa accadrà al ministero per la sanità statunitense come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi vi piacciono i miei video ricordatevi di ricompensarli e soprattutto di ricompensare il canale iscrivetevi attivate la campanella condividete il link al video sulle piattaforme social che frequentate e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso per voi sono solo pochi click ma per il canale significano tanto inoltre al momento attuale in Italia non abbiamo molti canali che si occupano di fare informazione divertendo quindi se vi affezionate e ci tenete a questo tipo di attività sostenetela potete anche abbonarvi e diventare dei Patreon avrete anche qualche piccolo bonus se non farete assolutamente nulla di tutto questo in un futuro alternativo remoto e decisamente improbabile potreste ritrovarvi Kennedy come ministro della sanità italiana io vi ho avvisati poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto